Siamo qui con Lorenzo Prestigiacomo, l'autore di 5 gol in questa finalina della Serie B tra Poeti e Usquatroni. Avete portato a casa questa medaglia di bronzo, siete arrivati nel podio, ne chiedendo più basso, una leggera soddisfazione riguardo al campionato, che era una soddisfazione importante arrivare ai primi e si sono arrivati ai terzi. Cosa è successo? Vabbè, l'espulsione è costata la squadra tanto, sono stato veramente un cretino a fare quei due falli e ho lasciato i miei compagni da soli da perdere. Quel cretino in estivo si sente più forte di me, però mi schina ancora. Oggi ancora una volta vedo una dimostrazione che è più scarsa, mi schina, ha preso bastonate e mi dispiace dirglielo. E niente ragazzi, la medaglia di bronzo come vi ho detto prima non mi interessa e neanche se avessi preso quella donna o quella d'argento non mi interessa. Quanto manca la Garibaldi Cup in finale di Garibaldi Cup in una squadra come lo squadrone? Non lo so, forse la vera finale sarebbe stata Red Devils contro i squadroni, però anche il Tinkiappetto può fare un buon partito. Se c'è una domanda, un tuo pronostico in finale tra Red Devils e Tinkiappetto che trionferà? Penso il Red Devils perché mi fanno simpatia. Ok, ringraziamo Lorenzo Vestigiaco. Buona giornata.